Buoni quattro anni sul miglio, The Prince, Toreador, The King, Top de Model, Titanic Deni, Tiago, Turbo di Azzurra. E ora Turbo di Azzurra al tuo darizzatore è il più gettonato, sette quattro anni miglio sotto clou del pomeriggio, allineamento che va a iniziarsi. Siamo a metà della piegata. Il paletto dei 200, un po' arretrato Titanic Deni e prende velocità il mezzo meccanico. Più che buono l'allineamento. The King griffa, la spinge, la macchina, la chiusura, con allargo Tiago, poi Turbo di Azzurra, The Prince. Corre al comando, The King parcheggia l'avversario e si va al completamento del lancio nell'ordine del 13 e 8. Ed allievo di Minopoli, leader, al completamento quasi della prima curva. Per linee esterne Turbo di Azzurra, pedinato da Titanic Deni. 400, se ne vanno in 29 e 7, ora amministra Ibirilli, leader, e Turbo di Azzurra gradatamente risale la comitiva, pedinato come un'ombra da Titanic Deni. Si va a completare i 600 iniziali, il griff di Minopoli, di completo in 45 e 4. E il Varen di turno, leader, avvicinato ora da Turbo di Azzurra. Anche lui è un Varen e quindi due fratellini o fratellastri nelle prime posizioni. Uno, uno e tre in mezzo miglio, si viaggia da uno, sedici e mezzo, quindici e nove di frazione. Titanic nella scia di Turbo, ha al comando il numero tre, The King griffo. Ora Turbo fa sul serio, chilometro in quindici e quattro, quattordici e uno di frazione. Risponde The King, Turbo a largo, quasi perfettamente apparegliato, ma ora rinviene la curva, leggero vantaggio del Varen di Minopoli. Notevole di fronte, 13 e 6, fanno 1 e 29, tre quarti di miglio. Si prepara Titanic Deni, che si affaccia sui duellanti. Viene via la grande il cavallo di Minucci, intanto Turbo a largo The King. Titanic tenta di inserirsi, ma The King allunga, a largo Turbo. The King in vantaggio, di dentro Toriador, lotta incerta, i cavalli sono in zona traguardo. The King, The King, The King. Griffo, è la griffa anche dell'avvocato Gragnaniello. Gragnaniello, si afferma, sembrava Titanic l'avversario, ma appena è entrato in dirittura è rimasto lì. Uno cinquantotte e due, uno tredici e nove, alla grande tutte e due, The King e Turbo, che hanno dato vita. Ormai è di comune questi quasi match all'ippodromo di Agnano, il che fa sempre bene all'ippica. Tre, sette, cinque, il probabile ufficioso arrivo, totalizzatore, che borbotta, tre e novantadue. Linea allo studio.